Che vuoi? Uomini e donne, Gemma Galgani disperata e in lacrime, ecco cosè successo Uomini e donne ultime news, Gemma Galgani disperata e in lacrime, ecco perché. . Cancelletto Gemma Galgani torna a raccontarsi nello studio tv di Verissimo, la trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin dove abbiamo visto che questa settimana si è raccontata in esclusiva. . La dama ha ripercorso con la conduttrice le varie tappe della sua tormentata storia damore con Giorgio Manetti, il cavaliere toscano che le ha fatto perdere la testa in questi mesi al punto da costringerla a chiudere tutte le sue ultime storie damore nate in trasmissione dalla De Filippi. . Gemma Galgani disperata a Verissimo, ecco perché. . Un intervista decisamente molto sentita e al tempo stesso emozionante per Gemma Galgani, la quale ha confessato in lacrime che ad oggi sente ancora di essere innamorata profondamente di Giorgio, nonostante il cavaliere le abbia detto chiaramente che non intende recuperare la loro storia damore. . Gemma nel ripercorrere le fasi della sua storia damore con Giorgio Manetti non ha nascosto lemozione e come vi dicevamo si è lasciata andare anche alle lacrime, ammettendo che lei continua a sperare in questo ritorno di fiamma e spera con tutta se stessa che il cavaliere possa darle una seconda possibilità. . 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